Musica 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 Mio figlio è il padre di mia figlia Ecco perché faccio il comico famoso, famoso, famoso Perché sono cornuto, cornuto, cornuto Sto scherzando Non sono famoso Musica 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 Adesso facciamo quello che viene, a Mutsu come si dice a Copenhagen, una storia che è universale per tutto il mondo, cioè praticamente quello che vuole tornare a casa sua, appunto dice strada di campagna, portami a casa, stasera questa è casa mia, mio padre abitava lì, quindi meglio di così si muore. Grazie a tutti.